Bene, siamo arrivati alla domanda sono le aziende che muoiono o la ricchezza della famiglia che svanisce? Con l'obiettivo sempre di capire come la maledizione della terza generazione si sviluppa nel tempo. Allora prima di andare a chiederci come spariscono le aziende dobbiamo chiederci come si evolve la ricchezza, quindi capire quali sono le dinamiche con cui la ricchezza si sviluppa. In questo c'è da dire che Thomas Picchetti è stato ed è probabilmente il più grande studioso delle dinamiche della ricchezza e forse anche quello che pur avendolo studiato molto non ne ha capito moltissimo, ma lui ha una visione molto elegante e chiara della dinamica della ricchezza che è la formula che trovate nella parte alta della tavola. Sostanzialmente lui dice che quando la rendita del capitale messo da parte è superiore alla crescita del mondo, del PIL mondiale, allora i proprietari di quella ricchezza possono spenderne una quota rilevante, cioè quella quota che è la differenza tra quanto cresce il mondo e quanto rende il capitale che tu hai. Vediamolo con un numero che forse è più semplice, in un mondo dove la rendita è il 5% e la crescita mondiale è l'1%, una famiglia può spendere, la proprietà proprietaria di quella ricchezza può spendere l'80% della sua rendita e comunque veder crescere il suo capitale. Che cosa significa? Significa che se io faccio 1 diviso 5 ho il 20% e l'80 lo posso ancora spendere. Facciamolo con i numeri per renderlo ancora più facile, io ho 1.000 euro da parte, se questi 1.000 euro rendono il 5% io avrò una rendita di 50, potrò spenderne l'80%, quindi 40 e metterne 10 da parte. Il mio capitale finale è 1.000 e 10, quindi alla fine dell'anno il mio capitale è cresciuto esattamente come tutta la ricchezza del mondo e ne ho tenuto da parte, ne ho estratto 40 euro che mi sono potuto spendere. Ora, questa è formula iper elegante ed è la formula, la base di tutte le regole che pensano a una ipertassazione dei ricchi. È purtroppo elegante ma non proprio, come dire, realistica. Primo, è evidente che per periodi di tempo molto lunghi la rendita non può essere di gran lunga superiore alla crescita del mondo, perché la rendita non è altro che la forma con cui le attività economiche remunerano il capitale utilizzato per lo svolgimento delle attività stesse, per cui se il PIL è l'1% solo una quota, scusate, se il PIL è oggi nel mondo più o meno sono 60 trilioni di PIL, beh, quei 60 trilioni di PIL solo una parte può andare a pagare il capitale utilizzato per generare i 60 trilioni. Ed è naturale quindi che una quota di rendita molto più grande rispetto alla quantità di PIL esistente sarebbe logica solo se il capitale fosse incredibilmente scarso. Com'era la terra ai tempi di Schumpeter, dell'atifattismo? In realtà dei 70 trilioni di PIL che noi oggi produciamo nel mondo abbiamo da parte ricchezze per circa 320-350 trilioni, quindi in realtà la rendita è molto più bassa di quello, la rendita media del capitale nel mondo è molto più bassa di quello che pensiamo, perché c'è molto più capitale, 320-350 trilioni che non PIL che produciamo. Questo è, diciamo, uno degli effetti negativi di aver ecceduto con la finanziarizzazione e con l'immissione di liquidità nel mondo, ma questa è un'altra storia. Da punto di vista di che cosa succede alla ricchezza, la visione di Picchetti è, eh, siccome la rendita è superiore alla crescita del mondo, chi ha i soldi diventa sempre più ricco. Questo è vero solo se R è superiore a G, cosa che oggi non è verificata, ma soprattutto ci sono delle cose pratiche che fanno sì che questo non sia vero e le vediamo nella parte sinistra. E per adesso non ci preoccupiamo dei, come dire, capitalistici, ci preoccupiamo di tutti per un attimo, quindi di coloro che possono avere un patrimonio da parte a prescindere da come questo patrimonio è stato generato e che cosa ce ne facciamo. Primo passaggio, le famiglie hanno più bambini e quindi la ricchezza si sperde, no? Pian piano, al tempo, tipicamente le famiglie crescono e quindi la ricchezza non è che rimane tutta dentro e quindi quel 40, ad esempio, di sopra si sparge su più persone e quindi la ricchezza viene consumata. Poi ci sono dei genitori che muoiono più vecchi e altri più giovani, quindi io in realtà mi tengo la mia rendita, ma la uso per gli anni in cui non ho più un reddito e quindi consumo una parte di quella ricchezza. Per di più, al di là dell'età, che sicuramente è un proxy di utilizzo del patrimonio, perché in età avanzata si è meno produttore di reddito e si consuma tipicamente uguale o di più, però è anche vero che nel tempo ci sono persone che possono consumare più rendito, addirittura consumare il capitale, magari perché non hanno lavoro e la rendita R è non sufficiente alle loro spese. A destra vediamo anche quello che succede nel mondo del capitalismo familiare. Quindi il primo passaggio è che ci sono investimenti che vanno bene e vanno male, quindi io ho quei mille o quei mille dieci, i dieci in più che ho messo da parte ogni anno, non è che aumentano il rendimento del mio patrimonio di per sé, sono in realtà usati nel caso del capitalismo familiare in un'azienda e quell'azienda può valere di più o di meno, andare bene o andare male, quindi quel mille non è così stabile come la funzione lineare di Picchetti pensa. E secondo elemento, anche per capitalisti familiari, il reddito da lavoro non ha funzione, quindi non è detto che la rendita venga usata per consumo, ma quella rendita, quei 50 dell'esempio di sopra, possono andare tutti a contribuire all'aumento del mille, ma il mille non è un conto in banca, ma è un'azienda che cresce con i 50 in più di capitale. Quindi, diciamo, la funzione di Picchetti è affascinante, ma non particolarmente realistica quando poi viene testata nel mondo reale. Considerate che però sulla base di questa formula Picchetti afferma che bisognerebbe tassare almeno del 50-60% le grandi ricchezze ereditate, perché il 50-60% per bloccare, secondo lui, questo eccesso di rendita ingiustificata delle grandi ricchezze. Ma, prima ancora di parte delle aziende, vediamo come queste ricchezze, che siano aziende o no, si sono sviluppate nel tempo. Quindi, primo passaggio, questo grafico mette insieme dei dati per l'Europa e per gli Stati Uniti di ricchezza rispetto al patrimonio, scusate, di ricchezza messa da parte rispetto al reddito annuale. Vedete che in Europa all'inizio del secolo c'è grande ricchezza rispetto al reddito annuale, 6,5 volte quello che guadagno, negli Stati Uniti è la più bassa, poi arriva la guerra e poi arriva la seconda guerra e vedete che nel 1950 la ricchezza accumulata media di tutte le persone è più o meno due anni di stipendio. Dal 1950 in poi, l'effetto vale, diciamo soprattutto, questa è la crisi del 29, no, ma vale per tutti, ma guardate in Europa come dal dopoguerra in poi la ricchezza pian piano cresce, la ricchezza è in proporzione al reddito anno, quindi da poco più di due volte si arriva a 5 volte il reddito anno messo da parte. Questa ricchezza accumulata comincia a essere trasmessa, in questo grafico vediamo sempre dalle studi di Picchetti che cosa succede in termini di passaggio di ricchezza rispetto al PIL di un anno. Quindi che cosa succede? Iniziamo da qui in alto. Nel 1820, scusate, nel 1820 al 1910, più o meno un quarto del PIL annuale era ricchezza trasferita, quindi bisognerebbe farlo sulla base della ricchezza totale, ma probabilmente non ci sono i dati, quindi si fa, diciamo, un quinto di tutta la ricchezza o un quarto veniva trasferita attraverso l'eredità, quindi qualcuno moriva e lasciava a qualcun altro una parte della ricchezza e questo passaggio pesava in termini di patrimonio un quarto del prodotto dell'anno. A un certo punto l'eredità perde importanza con la Prima Guerra Mondiale perché si distruggono gli asset e quindi solo un 5-8% viene trasmessa attraverso, diciamo, circa un 8% del PIL dell'anno viene trasmesso attraverso l'eredità. Considerate che, peraltro, in quegli anni c'è anche stata una diminuzione del PIL, quindi l'effetto è più che proporzionale. A quel punto ci sono le due guerre e la crisi economica e vedete qui di nuovo non c'è nuova ricchezza e quindi si arriva a un 4% di PIL annuo trasmesso come ricchezza. E da qui, con lo stesso, diciamo, effetto che abbiamo visto qui sulla ricchezza totale, i baby boomers non hanno ereditato, non hanno provato cosa significa ereditare, ma hanno costruito la ricchezza che adesso stanno passando. I baby boomers nascono, diciamo, nel dopoguerra e pian piano accuna la ricchezza e vedete che ogni anno, pian piano, la ricchezza passata torna a essere il 12% del PIL. E c'è, diciamo, una generazione attuale, quella, diciamo, nata negli anni 70, negli anni 80, quindi i figli dei baby boomers che oggi ricevono un 10-15% del PIL sotto forma di eredità. Ora, questo grafico Picchetti l'ha fatto con uno scopo molto preciso, cioè quello di dire, eh beh, sta tornando il tarlo della ricchezza patrimonializzata e per raccontarcelo ce l'ha messo col PIL. Invece il PIL è un valore flusso, ogni anno c'è il PIL, mentre l'eredità è una trasformazione di patrimonio che è un valore fondo. Ma ci serve comunque il grafico per arrivare a un punto che dice che pian piano nel tempo le ricchezze messe da parte sono aumentate. Ora facciamo un approfondimento su come le ricchezze si muovono invece nel mondo del capitalismo familiare e scopriamo che in realtà nel capitalismo familiare la ricchezza che la famiglia si passa è un'approssimazione di quanto ricca è l'impresa. E ci avviciniamo, diciamo, alla risposta sulla maledizione della terza generazione. Primo passaggio, primo dato importante, le ricchezze ereditate hanno meno peso di una volta. In Europa, dove le ricchezze ereditate hanno sempre avuto più peso per la tradizione, per, diciamo, anche il fatto che l'economia fosse più storicamente solida e tradizionalista e anche perché c'è meno, diciamo, competizione all'americana. Però vedete che dal 70% del 96 circa il 50% nel 2014 erano ricchezze trasferite, ereditate. Poi c'erano quelle fatte dai fondatori, quelle fatte nel settore finanziario, quelle fatte, diciamo, dai manager e poi quelle fatte, diciamo, collegate alla politica. Vedete che negli Stati Uniti il settore finanziario, ad esempio, che è molto più sviluppato, scusate, ha fatto molti più soldi, molti più miliardari degli altri. Passaggio in più che è importante. In questa diminuzione di importanza delle ricchezze ereditate si vede invece come, a seconda dell'area geografica che scegliete, è aumentata la ricchezza dei self-made, dei fondatori. Questo è fatto sull'intero globo, quindi vedete che ci sono le righe blu che sono quelle ricchezza fatta da fondatori e le righe viola ricchezza fatta dai ereditati. Noi vedete che, ad esempio, l'Europa, soprattutto quella del Sud, ha grandi percentuali di eredità, mentre negli Stati Uniti si vede grande percentuale di blu, cioè di gente che è diventata ricca. Questa è la ricchezza delle Silicon Valley e questa è la ricchezza finanziaria di Wall Street. E qui vedete il dettaglio, vedete come la Russia è un mondo di primi imprenditori, mentre l'Italia, la Francia sono paesi di, diciamo, ma se volete anche i paesi nordici, la Spagna, vedete che sono in Europa, tende ad essere un mondo dove l'eredità ha un maggior peso. Invece vedete negli Stati Uniti il mondo, diciamo, dell'Ovest tecnologico è più fondatori, il mondo finanziario del New York è più fondatori, e poi vedete che invece il mondo centrale alla fine è sufficientemente stabile. Ora abbiamo visto come la ricchezza si sposta e come si crea questa ricchezza spostata. Molta della ricchezza esistente è data da persone che se la sono creata, non persone che l'hanno ereditata. Vediamo invece cosa succede nella fase successiva, cioè a chi l'ha ereditata. Prendiamo l'Europa come esempio, vedete che in Europa una parte della ricchezza ereditata è delle mogli, quindi la stessa generazione, e poi c'è la seconda generazione, quindi la ricchezza viene ereditata da una generazione che è la seconda rispetto al fondatore, alla terza, alla quarta o ancora oltre. Vedete che anche gli Stati Uniti hanno comunque una parte rilevante di ricchezza storica, oltre alla quinta generazione, e dall'altra parte vedete che invece le economie avanzate non hanno ancora avuto il tempo di arrivare alla terza o a quarta generazione con le aziende che i fondatori hanno creato, quindi in buona parte stanno alla seconda o alla terza. Qui la maledizione di John Peter si vede chiaramente, vedete che i secondi hanno un sacco di ricchezza, i terzi un po' di meno, i quarti ancora meno, i quinti sono ancora meno. In realtà quello che si vede da questo dato, andando a vedere non la quantità di ricchezza rispetto alla generazione, ma l'andamento delle aziende, una volta che sono state fondate, si scopre che la pausa principale per cui la ricchezza ereditata diminuisce nel tempo e che spariscono le aziende, quindi il legame vero tra ricchezza, trasferimento di ricchezza, quella dei latifondisti, di Schumpeter, di Picchetti, e quella del capitalismo familiare, è quanto vivono le aziende che i fondatori hanno fondato. E qui che viene la domanda vera, cioè non è la terza generazione che uccide le aziende, e che le aziende, tutte queste sono aziende, non familiari, tutte le aziende hanno una loro vita, hanno un loro ciclo di vita. Vediamo com'è fatto. Guardiamo l'Europa che è in rosso. Tipicamente le aziende europee hanno 50 anni, la maggior parte, diciamo la, scusate, la moda è 50, la maggior parte delle imprese ha 50 anni. In Europa, guardate, dal 2007 non ci sono stati fondatori dopo sette anni, perché i dati sono riferiti al 2012, che sono diventati miliardari. Oggi in realtà ce n'è qualcuno, ad esempio, Daniel Ek di Spotify è diventato miliardario. Però è vero che mentre in America ci sono aziende nate nel 2001, nel 2002, che hanno già generato miliardari, Facebook, Google, tutto questo mondo tecnologico, non è Amazon perché è nato nel 97, però diciamo ci sono aziende giovani, già così sviluppate, che hanno fatto diventare miliardari i loro proprietari, mentre in Europa questo decennio, il primo decennio del secolo, non ha ancora generato miliardari. Ma quello che si vede è che in America la diminuzione delle aziende dopo i 50 anni è più che proporzionale alla scala logaritmica, per cui vedete che il numero di anni cresce di più rispetto allo spazio che gli viene dedicato. In Europa, invece, guardate come le aziende sopravvivono ben oltre i 100 anni. Poi si può discutere perché in America muoiono prima e in Europa meno, ma tipicamente le ragioni sono due. Il tipo di industria in cui si investe, è chiaro che le industrie più tradizionali hanno durate più lunghe, svolgono un lavoro per il consumatore che dura nel tempo, le aziende più tecnologiche e i settori più tecnologici tendono ad essere più corti. Dall'altra parte, il tipo di competizione più accanita o meno accanita dà più tempo alle aziende di adattarsi a modifiche del contesto competitivo. Pensate al caso forse più evidente che è Andersen di Netscape, Netscape che era il Chrome, l'Explorer, prima di Chrome ed Explorer, anzi era il Chrome prima che Google venisse fondato, si inventò questo software che serviva per far diventare i computer degli oggeggi con cui si accedeva a internet, cioè prima non c'era un sistema così semplice come oggi esiste. Netscape è diventato un grande caso di successo, è stata quotata 4 miliardi di capitalizzazione, poi è stata comprata da American Online, un'altra azienda che non esiste più, ma stiamo parlando del fine degli anni 90, non del 100 anni fa, Andersen è diventato miliardario e poi è sparito, quindi lui è uno di quelli, una di quelle aziende che ha avuto pochi anni, adesso qui non c'è perché era stata fondata nel 98, ma diciamo sarebbe pian piano sparita. Ora, uno degli altri segnali, non belli, ma che di nuovo ci fa dire che la ricchezza delle famiglie imprenditoriali è la ricchezza dell'azienda e di nient'altro, è l'età media. Guardate l'Europa, nel 2001, è la riga blu, la mediana dell'età delle aziende europee era 52 anni, mediana che sta invecchiando, vedete che la funzione si sta un po' incicciotendo verso la fondo, oggi è 61, quindi sostanzialmente in 13 anni la vecchiaia delle aziende è aumentato di 9. negli Stati Uniti invece guardate come la curva trasla, sostanzialmente nel 2001 era 38 anni, nel 2014 è 42 anni, quindi quello che sta succedendo è che le aziende nascono e muoiono con la stessa velocità, la distruzione creatrice funziona in entrate e in uscita uguale, mentre nel mondo europeo tendiamo a invecchiare di più, di nuovo, siamo più brutti, più belli, più europei, è naturale, il mondo americano ha avuto diciamo una grande effervescenza di creazione di imprese legate alla tecnologia digitali che sono nate e state sfruttate lì e forse anche aiutate di più a svilupparsi, in Europa questo è successo meno e quindi le nostre aziende che non sono tecnologiche stanno andando bene, stanno funzionando in settori che vanno come prima e quindi invecchiano senza sparire. Ma il punto vero è che se noi prendiamo queste aziende qui, stiamo parlando tutti di 50, 60 anni, che sono le tre generazioni? Quindi queste non sono le aziende familiari, sono tutte le aziende. Che cosa succede? Che le aziende invecchiando tendono a sparire perché i loro prodotti non sono più competitivi, il settore sparisce, eccetera. Se volete la controprova, guardate quali sono le aziende più antiche al mondo. L'azienda più antica al mondo è un'azienda giapponese, un bed and breakfast su un percorso votivo, cioè su un percorso che porta a un luogo di culto giapponese dove tutti i giapponesi in allontanità devono andare. Bene, dato che ogni generazione sono riusciti a, come dire, produrre un'erede, a generare un'erede, sono nata in 800, l'azienda, è chiaro che hanno potuto avere 1200 anni di storia. Perché? Perché la gente continuava a andare in quel posto e la gente continuava a doversi fermare a dormire, la gente continuava a usare gli alberghi, l'albergo dell'800 è un po' diverso dall'albergo del 2010, o del 2020, o del 2030, o del 1980, ma è sempre quello il lavoro, no? È chiaro che se nell'800 fondavate un'azienda di produzione di spade, adesso diventava un po' più difficile tenerla in piedi per 1200 anni. Se guardate in Italia, l'azienda più antica in Italia è una fonderia di campane nata nel 1200. Di nuovo, se nasci, se fondi un'azienda nella patria, nell'alveo del cattolicesimo, nel paese delle chiese, beh, insomma, se di nuovo riesci a generare un figlio in ogni generazione che ha voglia di portare avanti l'impresa, le dinamiche competitive non sono terribili, non è che non si fanno più campane e devi cambiare mestiere, no? Quindi ci sono dei settori molto stabili e ci sono dei settori invece a grande evoluzione, ma è l'azienda rispetto al settore in cui vive che va bene o va male, sparisce o non sparisce, non c'entra niente che sia guidato dalla prima o dalla seconda o dalla terza generazione. E, ancora di più, se voi guardate lo Standard & Poor's 500, diciamo, le prime 500 aziende di Wall Street, quindi quelle più belle, più attive, più capitalizzate, vedete che addirittura l'età media scende a 23 anni. quindi, come dire, vengono portate in borsa dal fondatore e sostanzialmente non sopravvivono neanche alla generazione dopo il fondatore. Quindi, è l'invecchiamento e la fine dell'azienda che erano originatori di ricchezza che comporta la fine della ricchezza. Vedete che qui abbiamo il dato che abbiamo visto prima, quanto velocemente da una generazione all'altra diminuisce la percentuale di trasferimento di ricchezza e qui vediamo come le aziende spariscono, tutte spariscono. Vedete che è la terza generazione, cioè, diciamo, supponiamo 25 anni o 30 anni una generazione, vuol dire 75-90 anni, vedete che ce ne sono poche che arrivano qui, ma non perché la terza generazione è cattiva, perché questo è il ciclo di vita delle imprese e la dinamica della distruzione creatrice di Schumpeter fa sì che queste aziende vengano distrutte per crearne altre. e quindi dobbiamo porci l'ultima domanda, le aziende invecchiano e muoiono quando si arriva e non perché si arriva alla terza generazione, ma le terze generazioni quindi sono spacciate o possono fare qualcosa?